Vedi il mondo con occhi nuovi. Capsule al mirtillo per migliorare la vista.In che modo la tua vista cambierà con O.K.Look. Sposta il cursore per vedere i risultati. Gli effetti di OK.Look.Capsule al mirtillo per migliorare la vista. I componenti di OK.Look rafforzano il muscolo ciliare che controlla il cristallino e lo protegge dall'affaticamento. Queste capsule aumentano l'elasticità delle arterie oculari e permettono l'afflusso di sangue alla retina e alla cornea. Dopo aver completato un ciclo di OK.Look, distinguerai meglio i colori, i contorni degli oggetti e riuscirai a leggere i caratteri molto piccoli. Gli occhi non saranno affaticati neanche dopo che avrai lavorato al PC molto a lungo. Ingredienti attivi di OK.Look.IMG. La luteina è un carotenoide e un pigmento giallo. È necessario per una corretta funzionalità della retina periferica. Gli esseri umani non la sintetizzano. Acquisce la visione. Rafforza i muscoli oculari e i vasi sanguigni. Previene la degenerazione della retina. Riduce il rischio di perdere la vista. La zeaxantina è un potente antiossidante, un isomero della luteina. Preserva la normale funzionalità della retina centrale. È contenuta nel cibo. Riduce l'affaticamento degli occhi dopo aver lavorato al computer. Protegge la retina dai raggi UV. Acquisce la visione notturna. Previene lo sviluppo della cataratta. Il mirtilo è una fonte di antociani necessari per proteggere e ripristinare la retina. Acquisce la vista, ne migliora la nitidezza. Ricostituisce la capacità di riconoscere i colori, i piccoli oggetti e i loro contorni. Migliora il flusso sanguigno. Nutre la struttura delle cellule. 1 Capsula di OKLOOK Uguale 10 chili di mirtilli freschi. OKLOOK ha già aiutato uno 763 540 persone a recuperare una buona visione. ING. Svolgo un lavoro d'ufficio da tutta la vita. A 40 anni, la mia vista ha cominciato a peggiorare rapidamente. Ho dovuto iniziare a portare gli occhiali, ma sono così scomodi. Indossare le lenti a contatto era ancora peggio, gli occhi mi facevano male e mi prudevano. Ma non è finita, la cosa peggiore è che quanto più tempo portavo gli occhiali o le lenti a contatto, peggiore era la mia vista quando non li indossavo. Per evitare la cecità, ho iniziato a prendere le capsule OKLOOK, su consiglio di un amico. Gradualmente, la mia vista è migliorata, un paio di settimane dopo, gli oggetti non sembravano più sfocati, e un mese dopo potevo leggere quello che c'era scritto sulle insegne della casa accanto alla mia. Porto ancora gli occhiali, ma ora con una gradazione più bassa. Sono sicuro che, dopo due o tre cicli di OKLOOK, non mi serviranno più. Sono sicuro che, dopo due o tre cicli di okLOOK, non mi serviranno più. Grazie. 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 Grazie.